Allora, Italia Online, bentornata a Campus Party. Grazie, buongiorno a tutti. Secondo anno di Media Partnership, e quindi cosa ne pensate di Campus Party? In realtà cosa ne pensi anche tu, perché anche tu sei una campusera. Esatto, beh, allora diciamo che è assolutamente una grande e bella esperienza, grazie per averci invitato per la seconda volta, siamo orgogliosi di questo. E' un evento che dà la possibilità a tanti giovani, a tanti millennials, di portare con sé un'esperienza sicuramente di innovazione, ma anche di unire quelle che sono le opportunità del futuro. Quindi il lavoro, l'IT piuttosto che il digital, che sono due grandi macro-arie che possono aiutare sicuramente i giovani in un'evoluzione futura. e a proposito di questo, oggi siamo qui nell'area Job Factory, perché Italia Online ha una postazione nella Job Factory di Campus Party e la domanda è molto semplice, perché lavorare in Italia Online? Allora, noi siamo la internet company italiana per eccellenza. Al nostro interno abbiamo diversi marchi che ci caratterizzano come Libero, Virginio, Pagine Gialle e Super Eva, che sono grandi player di mercato. Il nostro brand, la nostra casa, la nostra grande famiglia ospita tante opportunità che sono connesse principalmente al mondo dell'IT, al mondo del digital. Siamo un'azienda digitale giovane, fresca, che abbiamo voglia e volontà di crescere sempre di più in un'ottica di innovazione. Quindi, come si suol dire, il 4.0 è quello che è il futuro del lavoro e dell'innovazione. Molto conciso da dire, bravo. A Campus Party la parola d'ordine è Contamination. Assolutamente. Abbiamo anche un'area quest'anno che si chiama Area Contamination, quindi che cosa Italia Online si aspetta di portarsi a casa? Contaminazione, come hai potuto appena dire, dove abbiamo l'opportunità di condividere e unire tanti piccoli pezzi di puzzle che ci danno in un certo senso poi una vision comune di quella che è l'opportunità e il mondo del lavoro nel futuro. Avete anche delle postazioni in Area Contamination? Abbiamo delle postazioni dove io per caso, questa mattina, ho portato appunto dei candidati a fare un colloquio, banalmente, quindi mi sono seduta ed è iniziata una bella chiacchierata dove si sono approfonditi appunto degli scenari nella nostra azienda per questi due candidati. Bene, quindi grazie mille. Grazie. Grazie.